voglio avere il tuo punto di vista certo, certo, intanto grazie Giorgio che bella, che magnifica presentazione in realtà grazie per avermi coinvolto perché è un tema a cui sono particolarmente interessato a cui sono particolarmente, per cui mi sento impegnato anche in certi sensi e vorrei spiegare alle persone che ci stanno seguendo come mai ho aderito a questa iniziativa e sono molto contento di dare il mio piccolo contributo da coach, da padre di famiglia, da imprenditore perché come tutti quanti sto vivendo questo momento molto, molto delicato, molto particolare e che presta il fianco a misunderstanding continui a confusione, a paura quello che percepisco è che una percentuale altissima di persone ma mettiamoci dentro tutti dai, viviamo chi più chi meno uno stato un po' così di paura di angoscia in certi momenti per la situazione che stiamo vivendo per quello che vediamo, che ascoltiamo le immagini che ci arrivano le informazioni che ci arrivano per questa incertezza rispetto al futuro ecco, tutto ciò sta generando uno stato interiore che non ci aiuta allora io da quando è scattato il lockdown mi sono preso un impegno nei confronti delle persone che da anni mi seguono io, ripeto, sono un imprenditore nel campo della formazione e dello sviluppo personale e sono un coach e quindi il mio impegno nei confronti delle persone Giorgio, tu lo sai è quello di aiutarle così come aiuto me aiuto le persone vicine a me dalla mia famiglia all'interno della mia azienda ad essere la migliore versione di se stessi in modo tale da poter ottenere migliori risultati nella vita nel lavoro e così via e quindi in questo periodo nel confronto di tutte le persone aiutarle a rimanere desti a rimanere svegli stanno accadendo tantissime cose nuove prima tra tutte che poi la causa scatenante è questo virus in cui non si conosce o non si conosceva l'esistenza prima che ancora adesso ci lascia comunque molto così in difficoltà perché anche gli esperti come giustamente dice il professor Burgio non esistono esperti di questo coronavirus perché in realtà la verità è che è nuovo e quindi si va un po' così a tentativi ecco io vorrei che in questo momento dove accadono tante cose noi ognuno di noi rimanesse desto sveglio attento cioè che mantenesse in attività in funzione la propria mente il proprio cervello perché questo in modo particolare che qualcuno potrebbe dire ma che discorso il mio ma è ovvio che sono che sono sveglio che sono desto beh no perché perché quando abbiamo paura accade qualcosa nel nostro sistema nervoso ossia si spegne la parte più razionale più logica più critica e si attiva e si attiva quella che ci vuole evidentemente difendere più remota più antica che tende a reagire alle situazioni ok quindi perdiamo di lucidità perdiamo di senso critico perdiamo il nostro libero pensiero e e tendiamo a reagire più istintivamente più emotivamente quindi nei momenti di paura come questo nei momenti di ansia come questo è per molti di noi complice anche il fatto comunque di rimanere in casa di uscire poco essere anche meno ossigenati e tutta una serie di collaterali cosa accade che per la paura noi stiamo cedendo tante cose per noi importanti e non dico che sia sbagliato perché probabilmente è l'unica strada ma di fatto lo stiamo facendo una cosa per tutte che mi ha trovato da sempre critico però ripeto se non ci sono delle alternative migliori questa è la strada e io sto a casa come tutti il fatto di fare questo lockdown to cure a tappeto senza veramente una a meno questo è il mio percepito probabilmente però lo percepiscono in tanti una vera strategia dietro Giorgio che dica allora facciamo così e poi cosa e poi si aprirà in questo modo e poi la strategia Livio sentite tutti tu mi senti no? mi senti bene io ti sento molto bene apposto no no perché qualcuno ha detto audio che non si sente invece si sente vai vai scusami e quindi questo questo stato in buona sostanza di paura senza che noi ce ne rendiamo conto ci porta via un po' di lucidità ripeto e quindi per uscire dallo stato di paura siamo disposti a far passare tante cose ecco quello che non vorrei è che alla fine per questa cosa tragica che sta accadendo e che forse dico forse perché non voglio essere polemico ma sempre per seguire quello che in realtà penso e quindi esprimere i miei pensieri non è stata fin da subito affrontata nel migliore dei modi forse è stata sottovalutata all'inizio poi è stata forse esagerata nella manifestazione comunicativa cioè nel come c'è stato comunicato il tutto si è generato un panico forse addirittura ancora eccessivo poi insomma non è stata gestita benissimo di fatto stanno accadendo una serie di cose che quantomeno a me dei dubbi li stanno mettendo allora sto facendo delle dirette sulla mia pagina facebook ogni giovedì mattino alle 11 dove invito le persone a seguirmi in alcuni ragionamenti pensieri mi faccio delle domande e non ho sempre delle risposte ovviamente perché per dire quando parliamo dell'aspetto del virus di per sé non sono un virologo non sono un medico non sono uno scienziato quindi risposte non ne ho però ho domande domande che mi tengono sveglio e che non mi fanno accettare tutto quello che mi viene comunicato in maniera leggera ad esempio Giorgio ad esempio parliamone perché perché diversi virologi non faccio i nomi ripeto non voglio polemizzare però all'inizio ci dicevano tutti tranquilli è poco più che un'influenza ok e quindi stiamo tranquilli io stesso ho come dire portato questo messaggio alle persone perché so di avere contatto con molta gente dico stiamo tranquilli seguiamo le indicazioni non facciamoci prendere dal panico per poi cambiare idea e allora quello che ho condiviso è stato questo ed è il motivo che mi ha portato poi a partecipare con grande gioia a questo a questa giornata che si sta giocando una partita in questo periodo su più piani su più livelli secondo me uno prettamente sanitario quindi è l'emergenza sanitaria quindi si sta giocando dico una partita non una guerra Giorgio perché una guerra è diversa una guerra è un'altra cosa e ci sono ci sono come dire armi puntate insomma una realtà diversa che io fortunatamente non ho mai vissuto l'ho letta l'ho sentita raccontare ma credo credo che sia diverso da una guerra e l'approccio anche è sì e anche l'approccio deve essere diverso ma se noi usiamo come nel linguaggio nel nostro lessico il termine guerra siamo in guerra è facile che per le persone si generi una percezione di questa cosa tale per cui poi allora tutto è lecito perché se siamo in guerra tutto è lecito no non è esattamente così quindi nella partita che si sta giocando nell'ambito sanitario non spetta a me evidentemente creare linee guida o disposizioni ma farmi delle domande sì cercare di capire cosa sta accadendo sì anche in maniera critica ok perché ne va della nostra salute e allora vorrei capirsi un po' meglio dei numeri del come mai certe cose sono accadute basterebbe anche che quando qualcuno sbaglia dica ho sbagliato nessuno nessuno dice questo ma allora non si individuano gli errori si fa difficoltà a capire sembra adesso che anche parti delle terapie che sono state messe in atto all'interno dei nostri ospedali non sia stata sempre la migliore ma va bene perché si va per tentativi su una realtà che non si conosce ma poi allora si studia si studiano le varie possibilità ci si confronta tra vari esperti e poi si mette in atto la nuova una nuova terapia e così via e questo per quanto riguarda l'aspetto sanitario io invito le persone tutte comunque a documentarsi ad informarsi senza farne un'ossessione quotidiana ma a cercare di conoscere che cosa accade se veramente c'è pericolo io Giorgio non so cosa ne pensi tu a me ha sollevato l'animo quando ho sentito una conferenza di Ernesto Burgio che dice ma dal mio punto di vista e si parla sempre di punti di vista e non di certezze di un qualche cosa che non si conosce molto bene è più facile contagiarsi stando all'interno di un locale in un supermercato dove però ci devi andare per comprare da mangiare piuttosto che mentre sei fuori a fare una passeggiata cosa serve una mascherina se sei solo stai camminando per strada per andare al supermercato magari la indossi appena arrivi a ridosso di altre persone e così via ma tenere una mascherina quando sei solo all'aperto pensando che nell'aria ci sia una carica virale tale per cui ci si possa infettare in maniera pericolosa ecco io certe cose faccio proprio difficoltà a capirle allora cosa faccio mi informo cerco di andare a sentire ma questo non è l'unico piano su cui si sta giocando questa partita ve ne è un altro che è l'aspetto chiamiamolo sociale politico sociale della serie io non so cosa ne pensino le persone esprimo il mio di pensiero e noi abbiamo ceduto una libertà stando a casa e ripeto va bene se questo è per un bene più grande va bene io sto a casa non vado neanche più a correre sai quanto io ci tenga non sono d'accordo e attenti non sono d'accordo perché penso che una persona che vada a correre come io posso fare in campagna dove non c'è nessuno non fa male a nessuno però al coro del se lo facessero tutti posso capire che sarebbe difficile da gestire benissimo non vado a correre però noi stiamo cedendo una cosa importante che è la libertà libertà che i nostri nonni hanno conquistato con sudore lacrime e anche la vita no? e il fatto che nessuno o i giornali non abbiano particolarmente parlato di questo e non abbiano quantomeno messo in allarme i nostri governatori della serie noi vi diamo la nostra libertà in cambio della tutela della nostra salute ma fatene buon uso ecco non si fa un buon uso nel momento in cui con i droni rincorriamo una persona che da sola corre in spiaggia o nel momento in cui diamo una multa ad una persona che è andata a comprare a 500 metri no? a un altro supermercato perché lì non ha trovato magari la passa senza glutine adesso ne invento una se ne stanno se ne stanno vedendo e ascoltando veramente di ogni tipo stiamo stiamo esagerando no no poi diventa ridicola questa cosa eh sì allora si sta giocando questa partita a livello sociale sulle nostre libertà sui nostri diritti e ripeto va bene va bene se questa cosa è l'unica strada ma la mia domanda è ma è l'unica strada non è che magari facendo in maniera un po' più intelligente questo isolamento sociale si può dare un po' più di libertà e addirittura fare un miglior lavoro ad esempio facendo i tamponi eh di più alle persone invece che mettere a casa tutti o forse in un primo momento metto a casa tutti però poi dopo faccio i tamponi e chi non ha niente lo metto in libertà perché? perché possa produrre perché possa portare avanti questa questa l'economia che comunque magari è meno importante della salute ma è quella che poi ci permette di stare in salute quindi sono tante cose per cui mi sento critico ma sempre nei termini del voglio capire voglio comprendere io invito le persone a comprendere e a ragionare farsi e fare delle domande in senso assoluto ho avuto Giorgio con un grande piacere ad una mia diretta un avvocato che mi ha illuminato su una cosa lo dice vedete la nostra costituzione ha come primo articolo il fatto che l'Italia è una repubblica basata sul lavoro e nessuno si chiede perché è basata sul lavoro e non sulla salute no? la salute quasi forse si dà per scontata certamente però il concetto è che il lavoro noi dobbiamo pensare che i nostri costituenti quando sono arrivati lì in che modo? sono arrivati lì pensando a anni anni decenni secoli di crudeltà di soprusi e quindi la libertà è una delle cose più importanti è la libertà del lavoro che dà dignità all'essere umano e anche quella che gli dà dignità nella sopravvivenza lavoro significa poter sopravvivere con la propria famiglia poter avere il proprio sostentamento e quindi è da tutelare nel momento in cui tu mi chiedi di stare a casa mi togli il lavoro non mi fai più guadagnare a fronte di una salute mi devi dare però una prospettiva mi devi far capire che non potrà essere sempre così perché altrimenti sul serio poi ci sono le persone che dicono ma scusate la salute va bene ma se poi io non sono più una persona libera forse preferisco vivere meno ma da libero piuttosto che di più ma da incarcerato adesso questa forse esagerata ma serve per esprimere un concetto ma non basta e qui mi avvicino ovviamente alla nostra giornata c'è un altro livello di gioco secondo me che è quello economico finanziario perché perché questa a livello economico e finanziario queste manovre ci stanno facendo schiantare io dico che è un suicidio un suicidio assistito però non sono un economista e quindi non me ne intendo non ho grandi soluzioni non ho risposte ho tante domande e dico che se questa nazione non riprende a produrre non perché sia il più importante della salute ma perché è altrettanto importante per la nostra dignità se non riprende a produrre questa pandemia genererà sta già generando un'implicazione un riverbero effetto domino che poi sarà veramente difficile da recuperare e che potrà dare ulteriori poi insomma problemi alle famiglie alle persone e quant'altro infine e mi avvicino finalmente alla nostra giornata c'è una secondo me un quarto livello di gioco che è sotterraneo qua va dosato bene mi auguro di spiegarlo bene perché non vorrei essere come dire tacciato di complottismo io tutto sono meno che un complottista sono un materiale lo sai sono un coach una persona che vive di semplicità tutto sommato però sa perché ha studiato ha studiato ha studiato come si fa a persuadere e nella paura cosa accade che appunto le persone perdendo il proprio senso critico e analitico fanno passare tante cose stanno accadendo tante cose Giorgio a livello appunto sulle libertà sull'economia tra queste c'è anche il fatto che sembra in questo periodo che si stia giocando la partita del 5G ok e non è un pensiero complottista perché non è che dico che tutto l'abbiano fatto al fine di far passare questa cosa qua per l'amor di Dio sarebbe veramente Machiavellico e fosse così dico chapeau che bravi però di fatto accade questa concomitanza si sta giocando una partita molto importante a livello internazionale a livello mondiale rispetto sul 5G e sul 5G abbiamo tante domande io oggi sono contento di sedermi in prima fila ad ascoltare il professore perché perché voglio chiarirmi alcune cose perché sicuramente è vero che il 5G porterà dei vantaggi banalmente maggiore velocità che non si compiuta che stiamo sempre a lamentarci che è lento che non si collega bene che non c'è che non c'è la banda piuttosto che può dare possibilità come diceva l'altro giorno Colau la possibilità di poter fare degli interventi immediati su persone che hanno bisogno e così via ma nello stesso tempo quella stessa opportunità di poter fare degli interventi anche sanitari immediati sulle persone attraverso il controllo del 5G mi fa anche dire ma questo in mano a qualcuno che non sa usarlo mettiamola così ok che non ha proprio un giusto criterio diventa un'arma numero uno poi mi fermo qua e dico numero due siamo sicuri questa è una domanda che faccia te ma so che tu mi rimanderai a dopo ma siamo sicuri che le onde elettromagnetiche del 5G non siano davvero dannose se ci dicono che non esistono degli studi scientifici e io questo non lo so mi rimetto ancora a te e a dopo che dicono con certezza che fa male ma io ho dei dubbi perché io ho letto qualcosa a riguardo esistono degli studi autorevoli pubblicati che dicono no sicuro io ti garantisco che questa cosa non ha degli effetti tossici sull'organismo umano perché se mi dite che è così e me lo garantite io sono a posto ed ecco che su questa scorta io ho chiesto alle persone che mi seguono di unirsi a noi oggi in questa conferenza scientifica perché avevo tanto parlare in passato anzi recentemente proprio di questo argomento avrei voluto invitare qualcuno alle mie dirette per parlare di 5G e proprio quando ti ho fatto cenno di questo ti ho detto ma Livio faccio con uno dei massimi esperti proprio una conferenza su questo e ho detto ok niente diretta su questa cosa qua veniamo in massa veniamo anche noi a seguire e quindi questo è quello che ho fatto mi siedo in prima fila in silenzio con apertura mentale cercando di comprendere in maniera utile che cos'è questo benedetto 5G e che cosa se ci sono realmente delle implicazioni importanti sulla nostra salute sul nostro sistema immunitario guarda hai fatto una panoramica una visione che è tutta tutta la visione tutto quello che penso tutti le domande che si fanno le persone oggi sono queste persone oggi si stanno chiedendo quello che dici tu perché innanzitutto non c'è chiarezza innanzitutto non c'è si sta perdendo fiducia perché non c'è un leader alla fine c'è il comitato scientifico che non è un comitato scientifico perché io per mettere insieme un comitato scientifico di 140 persone che non non sanno cos'è il lavoro non sanno non ha mai lavorato nei settori dove sono io o magari sono sempre stati a parte il colao di cui parlavi tu qualche conflitto ce l'avrà se ha lavorato fino a ieri allora quando parliamo io faccio un esempio su di me faccio congressi medico e scientifici da 21 anni e mi dicono no tu non puoi presentare il tuo prodotto perché il tuo prodotto ha conflitto interesse e non si può nominare il nome commerciale e dico ma com'è che la questione vale solo per chi non è dall'altra parte vale solo per chi è da quest'altra non si capisce no dice no tu non puoi nominare il nome commerciale per dirti ci sono dei conflitti di interesse sicuramente e c'è tanta confusione perché non è possibile che tra scienziati si si dica io la penso io la penso in modo diverso da te ma poi non porta dati allora se tu la pensi in modo diverso da me devi dibattere punto per punto quello che dico in maniera scientifica in maniera tecnica non puoi dire secondo me perché assolutamente questo porta fuori strada a tutti alla fine siccome questi hanno un certo peso per quello che hanno fatto io non voglio nulla togliere premi nobel eccetera ma faccio non voglio entrare nel merito perché non ho neanche voglio dire sono il re degli ignoranti in questo campo però voglio dire non è giusto che si parli e non presenti un dato sei sempre no ma qui l'hanno fatto sparire è un complotto l'hanno voluto nascondere no forse scappa allora il problema qual è che noi abbiamo un virus pandemico in giro per l'italia in giro per il mondo scusa in giro per il mondo che è pandemico è pandemico l'abbiamo visto perché quando noi anche oggi sentiamo 147 medici che sono morti e non possiamo pensare che che sia una cosa da prendere sotto gamba il problema come ci dice anche Ernesto Burgio che dovevano essere create delle linee dedicate alla pandemia e non portare le persone malate negli ospedali questo doveva essere fatto aspetta che devo silenziare tutti questo doveva essere fatto non so se se sei se sei d'accordo su questo insomma doveva in maniera più assoluta Giorgio di fatto ancora oggi se non c'è un piano un'organizzazione ben precisa su cosa fare dal 4 maggio è un problema perché è un problema è un problema peggiore perché le persone continueranno magari quando si sentono male entrando nel pronto soccorso tu fai un tampone abbiamo visto che il tampone non è poi così affidabile e quindi io dico se a me mi dici andate tutti in strada a protestare e poi io magari non so di essere infetto o non so di incontrare una persona infetta nasce un problema perché ho una responsabilità poi per rientrare a casa e abbracciare i miei cari no allora questo è questo è il vero problema e questo è il vero problema c'è un problema ancora che si somma che è quello delle difese immunitarie è quello che tu dicevi prima i 5G fa male o fa bene beh a parte che molti studi vedremo poi ecco perché vogliamo i maggiori esperti molti studi molti studi stanno andando sulla direzione che non è che faccia così bene ma io mi chiedo ma dove siamo stati oggi tutti e nessuno ha mai protestato per i danni da 3G e 4G o poco più perché nessuno si lamenta di questo in casa usa il 3G e 4G usa il wifi usa i forni a microonde c'ha magari il tralicci dell'alta tensione sì però è marginale c'è una ci sono un popolo di elettrosensibili che stanno subendo questa situazione addirittura devono cambiare casa lo vedremo dopo allora oppure diventano elettrosensibili poco si conosce di questo adesso se mi permetti volevo magari condividere con voi qualche slide assolutamente certo certo perché così ci introduciamo e arriviamo a presentare il grande dottor Marinelli che ha scritto questo libro per piacere silenziate i microfoni perché se è un problema questo è il libro di Fiorenzo Marinelli che è wireless ti dirò Livio la scorsa anzi due settimane fa abbiamo fatto un altro incontro con Alessandro Gelli altrettanto interessante sui danni da campi elettromagnetici addirittura sull'influenza del cambiamento climatico sulle radiazioni solari l'influenza che questo hanno ma con tutti i studi scientifici pubblicati che questo hanno su il nostro bioritmo sul sistema cardiovascolare sul sistema neuroendocrino quindi i dati ci sono già Pietro Livio ci sono dei dati ormai che vanno nel senso che come mai non Livio ci sono ci sono ci sono come mai queste cose non vengono portate alla luce un altro esempio sono così sicuro che i campi elettromagnetici 5G fanno male fanno bene e io mi chiedo ma come mai si continuano a vendere sigarette e te dici se no c'è il contrabbando ho capito ma dico sempre vendono sigarette perché se no fanno contrabbando ho capito ma quali sono cose fuori legge è come gli stupefacenti eccetera quindi voglio dire vendi sigarette ma vendi anche lo zucchero che tutti sanno che non è proprio la cosa ottimale fai pubblicità solo a delle cose perché e lo stessa cosa è il fatto che comunque il governo ha venduto le frequenze 5G l'ha vendute a Vodafone senza fare nomi a Vodafone e a Tim perché voglio dire sono loro l'hanno vendute e quindi è come un po' se tu mi vendi il tuo lavoro è di vendermi i tuoi libri e io cosa faccio mi vendi i tuoi libri e io li devo rivendere se lo Stato ha venduto le frequenze a un'azienda l'azienda cosa fa le rivende certo ora poi tutti si mobilitano stop 5G ma perché non avete fatto anche stop 3G stop 4G stop Wi-Fi perché è altrettanto dannoso perché non puoi adesso ancora di più viviamo in una in confinati in un ambiente e questo ambiente è sempre più inquinato voi sapete guardate io mi occupo di per esempio vi faccio un piccolo esempio mi occupo di di malattie alle vie respiratorie dal punto di vista tecnico non medico questo è inquinamento dell'area e patologie respiratorie la data questa è 26 28 febbraio 1998 vi faccio solo un esempio e qui si mette in correlazione tutti i danni da inquinamento dell'area non solo dell'inquinamento esterno ma soprattutto degli ambienti confinati dove si vive dove si dorme dove si lavora che è dalle tre alle quattro volte più inquinato che all'esterno voi pensate stare due mesi io lo dico anche le donne magari in stato interessante o magari che vogliono un bambino cioè noi dobbiamo pensare al futuro delle nostre generazioni perché è vero io dico sempre lo sai la mia battuta la vita è urgente le barre non hanno tasche lo dico da sempre ma non è è vero è vero è vero è vero allora se partiamo dal presupposto che questo è così cosa possiamo fare dobbiamo conoscere perché se conosci lo eviti quindi è chiaro che noi dobbiamo trovare delle strategie per l'economia riuscire a trovare ma dobbiamo organizzarci come facciamo a organizzarci quando hai mandato a sciare le persone a marzo e hai chiuso il 10 marzo quando la pandemia è scattata a gennaio anzi lo sapevi già perché veniva da dicembre non è che la Cina allora il problema è un problema proprio di di governo di competenza di capacità di decisione è questo il problema è certo per quello che dicevo che ci sono più livelli di gioco perché di fatto non è solo una questione sanitaria dove hanno evidentemente fatto degli errori incredibili perché tu mi dici giustamente 140 morti tra i medici ma non è che il virus fosse come dire credo che sia la categoria professionale più colpita tra tutte ma perché perché è evidente evidente che fossero imposti con delle cariche virali enormi ma loro sapevano che sarebbe successa una cosa così ci sono delle responsabilità politiche ma insomma penali anche importantissime quindi non è solo una questione di tutela della salute delle persone ma è anche di ma in mano a chi siamo siamo così convinti che quindi queste misure che stanno prendendo ci porteranno fuori da questo problema e non parlo solo del problema sanitario perché è uno dei livelli del problema ce ne sono appunto vari quindi ben contento di avere nelle prossime ore insomma attraverso quello che ora ci racconterai e il professore cosa è questo 5G perché dove avrò la forza di potermi far sentire con la mia forza di impatto con le persone che conosco con il mio voto qualora insomma nel momento in cui questo sarà possibile farlo io voglio farmi sentire perché se una cosa non ci allora è giusto che lo denunciamo assolutamente Livio allora siccome poi dopo diamo la parola al prof un quarto d'ora di una panoramica veloce perché anche per anche per gli addetti ai lavori in maniera che poi potete recepire meglio quello dirà il dottore guarda Giorgio io mi siedo in prima fila mi azzittisco mi tolgo anche e ascolto con grande interesse sono primo dei tuoi allievi mi intervieni quando vuoi anzi mi raccomando chiudete il microfono tutti per piacere perché è veramente sono tante persone allora grazie a tutti cosa voglio dire beh innanzitutto che ci vuole sempre più consapevolezza formazione e informazione bisogna partire da un presupposto sacro santo di cui tutti parliamo che dobbiamo rafforzare il nostro sistema immunitario perché non se ne parla perché non se ne parla perché in televisione si parla guarda aspettiamo il vaccino magari fossero in grado di fare un vaccino di un di un virus che muta continuamente allora se muta muta continuamente probabilmente se non stabilizza non possono fare il vaccino lo sappiamo già è un'altra cosa sono determinate cure che ancora non c'è una cura valida c'è un insieme ci sono dei protocolli però gli effetti collaterali insomma naturalmente questo lo sappiamo quello che stiamo vivendo però il sistema immunitario dobbiamo parlare del sistema immunitario allora una volta si parlava di sana e robusta costituzione i vecchi medici ti dicevano ah gode di sana e robusta costituzione oggi come si fa si nasce in un mondo inquinato si mangia cibo inquinato e noi stiamo secondo me un po' rischiando grosso il sistema immunitario poi proprio per questo noi stiamo andando avanti stiamo facendo dei convegni delle conferenze dei seminari se queste sono maratone vi aspetto se avrete la possibilità con i più grandi professionisti del settore le faremo nei prossimi weekend già domani sera sull'osteoporosi osteoporosi no grazie la rigenerazione del tessuto osse per piacere i microfoni per piacere grazie per piacere i microfoni detto questo se l'informazione prevenzione e l'epigenetica è quello che praticamente muove tutti i fili è il software del nostro computer noi siamo queste cose tutti i fattori che interferiscono dall'area che respiriamo a quello che mangiamo all'acqua che beviamo dobbiamo avere la consapevolezza io sono d'accordo con Livio tra poco le persone alcuni che hanno le possibilità non lo sapevano adesso pensate quando non hanno più le possibilità neanche una volta che conoscono queste cose perché il lavoro va male perché non potranno più riaprire la loro fabbrica o i loro negozi sarà un vero problema mangiare di qualità perché anche mangiare qualità a volte costa anche la frutta le verdure di stagione la biologica filiera corta ormai queste cose le sanno in poco allora cosa si fa si mangia pane pista pazza e patate sempre più raffinata e questo creano dei problemi alla salute delle persone ma pensate all'aria all'acqua che beviamo il movimento ci hanno confinati in casa non si può uscire come fai dobbiamo attrezzarci comunque fare movimento siamo sempre seduti l'ambiente in cui viviamo ed ecco oggi ho voluto proprio il professor il dottor Marinelli perché dobbiamo avere chiaro cosa sono questi campi elettromagnetici noi siamo abituati a reagire sulle cose che vediamo o magari ci dicono ma non quello che non vediamo dice vabbè non c'è no non è che non c'è e anche non è che d'inverno il sole quando fa freddo non c'è c'è sempre magari è un po' più lontano ma c'è attenzione che i campi elettromagnetici sono altamente dannosi alla nostra salute la luce il sole ce ne stiamo dimenticando ormai perché siamo tutti con luce artificiale attenzione anche a quella c'è un libro bellissimo del mio grande amico Fabio Marchese che dice la luce che cura beh effettivamente la luce è il nostro segreto della vita sono fotoni è energia ci ricarica le batterie delle nostre cellule quindi è un insieme vedete è un mosaico sono tutti mattoncini che dobbiamo mettere insieme e poi l'ossigeno la fonte di vita noi ci dobbiamo ossigenare e lo facciamo con i cibi giusti e con l'attività sportiva con la respirazione giusta ma dobbiamo avere un sistema immunitario efficiente perché se voi fate benzina alla vostra macchina e il motore non va è inutile metterci anche il cibo migliore champagne ostri che e caviale alla macchina insomma non funziona perché il motore non va dobbiamo rimettere a posto il nostro motore tutto dipende da una carenza di ossigeno quindi di stangiopatia congenite acidosi enzimo metabolica vado molto veloce dovremmo conoscere i nostri indicatori epigenetici che si stanno danneggiando le carenze ma soprattutto vedete questo Livio lo conosce bene le interferenze di frequenza dei campi elettromagnetici oggi possiamo anche mappare le frequenze che ci danneggiano quindi intervenire in maniera preventiva ora mangiamo per produrre idrogeno e respiriamo per avere l'ossigeno noi dobbiamo capire una cosa importante che i nutrienti sono fondamentali e quindi non possiamo mangiare pane pizza e patate perché ci sono lì dentro le proteine sufficienti se sono raffinati ci sono lì le vitamine i minerali gli amminoacidi gli omega 3 che mi servono per le mie cellule ci sono gli amminoacidi che devono costruire i miei muscoli queste sono le domande che ci dobbiamo fare quando mangiamo qualcosa di fronte al nostro piatto e l'ossigeno che io respiro è sufficiente la mia ossigenazione è buona ma io sono in grado di consumare quell'ossigeno cioè funzionano perché come avete visto alle persone che andavano in debito di ossigeno che mettevano la maschera dell'ossigeno alcuni non ce l'hanno fatta nonostante erano sotto la bombola d'ossigeno perché non è tutto così scontato è un insieme certo molte erano anche compromessi da varie problematiche di salute ma non è così scontato che dando l'ossigeno uno si riprende anzi deve avere un buon motore questo motore è fatto dalle nostre cellule i mitocondri l'energia per la vita tutto nasce a livello cellulare e il premio nobel del 2019 è stato dato a questi grandi scienziati che hanno riscoperto come Barbur come Geaton il testo di fisiologia medica il fatto che la nostra salute fisiologia e fisiopatologia dipende da una corretta ossigenazione cellulare e gli hanno dato il premio nobel 1900 scusate 2019 avete visto questa notizia alla televisione sì qui il giorno del nobel ma perché non discutiamo sul fatto e noi abbiamo fatto una bellissima lezione proprio domenica 19 pensate si sono collegate oltre 2000 persone in tutta la giornata da 500 e 600 persone di media ma voi pensate ma perché non ne parlano che l'ossigeno è importante e mi danno l'ossigeno solo quando sono in fin di vita questa giornata che abbiamo fatto domenica abbiamo parlato molto della correlazione di ossigeno e sistema immunitario abbiamo parlato molto di queste cose e ne parleremo poi anche dell'ozonoterapia che ha dato dei suoi benefici importanti 37 pazienti 36 sono sono usciti dalla non hanno avuto bisogno della maschera all'ossigeno a Udine nell'ospedale di Udine e ne parleremo con Vincenzo Simonetti il grande spaggiare proprio del sistema immunitario perché dobbiamo partire dai mitocondri dobbiamo capire che tutto dipende dalla disfunzione mitocondriale quindi ritornando al messaggio Livio che la vita è urgente e il DNA non è il tuo destino dobbiamo iniziare a unire i puntini iniziare a capire che l'epigenetica tutto ciò che facciamo è software della nostra vita la consapevolezza di migliorare la qualità della vita e rifiutare ciò che intossica le future generazioni guardate cosa sta accadendo al mondo noi ci stiamo il mondo è più malato di noi non solo di Covid-19 ma c'è una malattia in atto che è questo che ha il degrado è l'indifferenza è veramente vero peccato trovarci a che fare con un mondo come questo che lasceremo alle future generazioni e poi parleremo dopo dei tralicci di alta tensione del fatto che le frequenze vedete non le vedete perché queste le vedi solo con gli spettometri con determinati sistemi di rilevazione ma questi sono nell'aria e sono in mezzo a noi il wifi spengete il cellulare prima di andare a dormire spengete il wifi non tenetelo nella vostra stanza dove dormite attenzione perché l'epigenetica condiziona la nostra vita quindi i cambiamenti epigenetichi provocano stress xenobiotici farmaci alimentazione quindi tutto ricopre un ruolo fondamentale per la nostra salute quindi l'inquinamento è altissimo ovunque e vi dico ovunque perché vi ricordo che il Chernobyl ancora oggi ne paghiamo le conseguenze su radiazioni anche che hanno trovato nelle montagne che ci circondano nel grano contaminato da radiazioni eccetera eccetera quindi attenzione non possiamo fuggire da questo mondo dobbiamo conviverci quindi per conviverci dobbiamo rafforzare il nostro sistema immunitario e sempre più medici sono consapevoli di questi lo stanno facendo non so perché di queste cose non se ne parla in televisione sembra un tabù cioè se parli se dici non puoi dire che lo zucchero fa male non puoi dire che i campi elettromagnetici se abusati fa male non puoi dire che il telefonino c'è scritto in alcuni lo devi tenere a 3, 4, 5 centimetri di distanza anzi addosso non lo devi tenere perché se lo tieni in mano ce l'hai addosso quindi un problema di usare le cuffie tante cose che poi vedremo perché il nostro corpo è costantemente sottoposto a alimenti tossici tra cui quello che non si vede pensate un po' agli OGM a tutte queste continue intossicazioni ai nostri cibi quindi tossicità ambientale e poi eccoci qua quello che io dico da sempre ma è possibile che noi ci rifugiamo in casa pensando che la nostra casa sia il la salva il salvavita non è così ci facciamo giocare i bambini con i cellulari con l'iPad con il computer dovrebbe essere vietato per legge fino a 14 anni perché non solo c'è un danno a livello celebrale tessutale ma c'è un danno anche a livello del neurosviluppo di questi bambini e attivano le stesse aree celebrali di dopaminergico come la droga e come lo zucchero pensate lo zucchero quanto crei dipendenza quindi attenzione a tutto questo e vivere un ambiente così e questo è quello che sta accadendo vogliamo far finta di niente anche di questo e io mi domando ma come mai non interveniamo leggi su leggi decreti su decreti senza avere soluzioni da anni e anni e bambini che nascono sempre più malati perché le madri sono sempre più malati la linea materna e questo è quello che ci accade quindi compriamo pubblicità perché comunque adesso siamo martellati e pensiamo che la pubblicità sia la cosa migliore in assoluto sul mercato non sappiamo più scegliere siamo confusi su tutto c'è tanta confusione e come dicevano i romani dividi e impera penso che stanno dividendo per controllare sempre di più le nostre azioni e le nostre scelte e stiamo però vivendo in un mondo malato ma anche gli altri tutti viviamo così non solo anche quello che comanda vivrà un po' meglio ma il futuro dei figli non ci pensano guardate i campi elettromagnetici i danni che possono fare al cervello dei bambini degli adulti io sono veramente preoccupato di questo sono preoccupato perché dormiamo così e viviamo così senza rendercene conto del fatto che questo probabilmente se danneggia l'acqua a contatto vedete le radiazioni dei microonde televisioni computer cellulare guardate l'acqua che viene danneggiata pensate al nostro corpo è ancora lo stress le statistiche mostrano che l'autismo sta crescendo e certo non dipende solo dai campi elettromagnetici ma anche dall'inquinamento dai reali rischi congeniti dalla disfunzione mitocondriale dalla carenza di ossigeno dalla carenza di nutrizionale e quindi dall'organizzazione mondiale della sanità cosa facciamo ci dice che i campi elettromagnetici probabilmente sono cancerogeni quindi capite che il 5G amplificherà tutti questi danni ma siamo già dentro il problema e invece diciamo ah il 5G stop il 5G ma come utilizzi da sempre il cellulare attaccato al cervello e non te l'accorgi e lo tieni in tasca come si dice bruci i gioieri di famiglia o le ovaie passatemi il termine è comunque uguale o lo tieni nel taschino e quindi danneggi il cuore insomma bisogna stare molto attenti questo è il problema ci sono già state delle sentenze dove hanno provato che è canceroso quindi con quale precocità l'autismo può entrare in nostre case dipende non solo certo come dicevo dai campi elettromagnetici ma sicuramente se la goccia a goccia buca il marmo pensate i danni che può fare l'inquiramento dell'aria l'inquiramento dei campi elettromagnetici il cibo spazzatura è tutto quello che mettiamo insieme quindi vi sono evidenze ormai che attestano questa correlazione gli studi stanno andavanti su questo senso lo stanno provando ecco perché abbiamo voluto invitare Fiorenzo Marinelli a presentare tutti i lavori possibili e questo è questo che sta accadendo e abbiamo certe soluzioni noi se vi interessano poi ne parleremo comunque questa è la smart card che ha dimostrato di migliorare la nostra possibilità di proteggerci nei confronti dei campi elettromagnetici prima e dopo vedete il sangue come cambia e migliora perché perché noi dovremmo copiare la natura guardate questo è Bama un osi del mondo e la Cina non è soltanto spazzatura inquinamento è anche questo e questo dovremmo averlo nei nostri dovremmo creare un mondo ecco pensate quanto sia importante anche questo aspetto di creare un ambiente a misura d'uomo quindi quando ritorneremo nel mondo nel mondo reale dovremmo fare i conti con questo mondo col mondo che ritornerà a essere pieno di macchine pieno di smog continueremo a entrare nella vita di tutti i giorni pensando che sia normale portare i bambini alle ore di punta andarle a prendere ore di punta e a passeggio in giro per la città piena di smog dovrebbe farci anche capire insegnarci qualcosa a questo momento di quanto sia importante anche non solo come dicevo il fatturato perché le barre non hanno tasche allora equilibrio sicurezza consapevolezza informazione e prevenzione noi dovremmo ritornare a questo dovremmo ritornare al fatto che di riapproparci della natura nessuno ci sono persone nelle città che non hanno mai visto una gallina o un coniglio o come si fanno le uova pensano che si fanno che cascano dagli alber si fabbricano le uova nelle fabbriche cioè veramente non hanno mai visto una montagna una campagna è difficile vivere in questa situazione l'aria la luce solare il cibo l'acqua il magnetismo tutte quelle cose che stiamo distruggendo che ci hanno creato che è un po' un'eredità vedremo quindi non possiamo modificare il macroambiente ma possiamo modificare il microecologia domestica per esempio le sempre le case ecologiche dovremmo pensare a questo dice ma adesso abbiamo un problema più grosso certo ci sono delle priorità senza però dimenticare il fatto che senza salute non possiamo fare fatturato non c'è non si scappa perché è così senza la salute non abbiamo più perdiamo tutto quindi pensiamo prima alla salute rimettiamo a posto le nostre cose acquisiamo la consapevolezza guardate che mondo tra il mondo di sinistra e destra ricordatevi che poi ritorneremo a quel mondo di sinistra dice ah che bello e io non so se è così bello quel mondo non so veramente eppure senza quel mondo certe persone non riescono a vivere probabilmente non hanno altri scopi non hanno un perché è fondamentale qui Livio mi potrà vedere incontro quindi proteggere le persone cercare di proteggere il più possibile le persone hanno bisogno di sapere hanno bisogno di sapere quindi noi lo facciamo con un test epigenetico S-Drive adesso non è il momento di parlarne bisogna ritornare allinearci con la natura ritornare perché perché la scienza e la tecnologia di oggi hanno generato la sensazione che il benessere del domani dipende dalla nuova grande scoperta medica è un po' come quando hanno scoperto il cellulare gli smart ma che bella comodità attenzione c'è una tecnologia fondamentale come se io devo utilizzare una risonanza magnetica per fare una diagnosi urgente importante perché c'è un vero problema di salute è una cosa è fare una radiografia a settimana perché voglio tanto perché voglio prescrivere una radiografia o voglio utilizzare ore e ore il cellulare tutto ha comunque un effetto è una condondigazione bisogna assolutamente rientrare nell'ottica che la migliore cosa è la prevenzione perché quando è troppo tardi poi non si riesce più a tamponare questi problemi quindi riallineiamoci con la natura cerchiamo di scegliere i nutrienti i cibi e stare molto attenti agli additivi alimentari perché gli additivi sono veramente non si sente pronto? mi sentite? pronto? si 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 sente bisogna assolutamente quindi scegliere si si sente bene dobbiamo scegliere in modo consapevole e riuscire a creare un ambiente ottimale le sfide che ci attendono nei prossimi anni sono stare attenti stare molto attenti alle sostanze chimiche alle tossine e alle radiazioni e quindi attenzione ai luoghi di lavoro ritornare con una nuova consapevolezza a lavorare e a vivere non più come prima ma più consapevoli e stare poi attenti a quelle cose che ci stanno danneggiando pensate virus batteri eccetera eccetera ed eccoci alla giornata di oggi indicatori di interferenza le frequenze artificiali non sono compatibili con le onde sinusoidali naturali in cui ci siamo evoluti le frequenze artificiali se dannose e forti come vedremo come ci spiegherà Fiorenzo Marinelli disturbano la comunicazione delle nostre cellule l'acqua interna trattiene queste frequenze quindi sempre più memorie dannose per la nostra salute questo conduce a una perdita di efficienza del nostro sistema che entra in una compensazione e trae l'energia necessaria da altre fonti nei casi più gravi le conseguenze possono essere molto serie ancora non si conosce la reale portata dell'esposizione o meglio si conosce ma non si divulga oppure si fa finta di nulla e sappiamo adesso vedremo anche gli studi dell'istituto Ramazzini per esempio e quindi avere un piano di consapevolezza noi ci siamo posti questa domanda possiamo attaccare i CEM ve lo dico io no non possiamo come facciamo dovremmo vivere mettere un metallo e andare in giro con fasciati di stagnola non si può possiamo sfuggire dai CEM no possiamo fare a meno della teleurale tecnologia ma ve lo dico probabilmente no perché comunque c'è chi non deve più lavorare allora sì ma chi deve lavorare nel nostro mondo lo smart working adesso bisogna sempre stare più attenti sempre 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 più attenti a queste cose informare informare divulgate queste informazioni perché non possiamo rinunciare a questo però lo stiamo già facendo col 3G e 4G il 5G amplificherà questi danni quindi io dico ma tutti che si svegliano con questo 5G è prima dove siete stati quindi perché questo inverte la polarità poi ce lo farà vedere dottor Marinelli l'inversione di polarità fa sì che non faccia entrare i nutrienti a livello della membrana cellulari e cosa fare proteggerci adattarci rifornzarci e quindi entrare sempre più consapevoli nel mondo di domani che comunque non potremo evitare perché purtroppo ci sarà perché se andate in un'altra nazione la troverete non è che se qui fermiamo il 5G poi andate in giro e non la trovate ormai sappiamo che questo sta esplodendo in tutto il mondo questa tecnologia e purtroppo dovremmo conviverci imparare a conviverci e noi abbiamo fatto in modo di trasformare questi danni questo rumore in musica lo facciamo da sempre e ci sono dei dispositivi che possono aiutare naturalmente stiamo andando avanti con la ricerca per cercare di proteggere le persone e riallineare proprio l'energia biochimica del nostro corpo e biofisica soprattutto quindi rimettere in condizioni il nostro corpo di vivere in maniera ottimale per rafforzare il nostro sistema immunitario attraverso l'ossigenazione la miglioramento dell'ossigenazione proteggendo i nostri dispositivi con dispositivi che possono essere molto utili guardate prima e dopo abbiamo fatto dei test prima una persona con un indicatore epigenetico molto intossicata a campi elettromagnetici e poi questa cosa si è risolta e abbiamo fatto anche test sul sangue per esempio quindi la ricerca continua ci sono dei dispositivi che possono essere molto utili io vi voglio lasciare con questo messaggio non ereditiamo la terra dai nostri antenati la prendiamo in prestito dai nostri figli e se su questo messaggio che io voglio chiudere la mia la mia introduzione la presentazione del dottor Fiorenzo Marinelli richiamando un attimo Livio per per un suo per un suo parere sulla giornata di oggi e su quello che veramente possiamo fare insieme mi ricordo la scuola di alta formazione che partirà il 16 e il 17 maggio Livio cosa cosa ne pensi di questa introduzione insomma penso che hai ragione dove siamo stati fino a ieri le persone che minimamente si sono informate e che sono state sono tuttora sono diventate consapevoli dei danni che il 3G il 4G insomma i wifi fanno producono alle nostre cellule al nostro organismo io tra queste faccio di tutto per usarli perché come giustamente hai spiegato anche tu oggi sono non dico indispensabili ma quasi ci manca non per vivere ma sicuramente per lavorare e cercando di limitare al massimo i danni come attraverso appunto dei dispositivi dei devices che in qualche modo contrastano questa influenza e attraverso piccoli accorgimenti tipo sto lontano dal telefono non lo tengo magari acceso durante la notte non lo faccio usare ai miei figli ai bambini piccoli insomma cerco di tutelarmi tutelarci nel migliore dei modi compatibilmente con quella che poi è anche l'esigenza lavorativa che ci impone di usarli perché altrimenti sei tagliato fuori quindi non puoi più permetterti di non usare un cellulare oggi perché staresti poi poco competitivo rispetto ad altri quindi bisogna fare attenzione sono d'accordo con te il 5G è un potenziometro quindi è come stare come dire in un enorme forno a microonde e se io dico io il cellulare lo tengo lontano e posso in qualche maniera schermarmi sì ma se sei dentro un'abitazione dove c'è il wifi acceso lui comunque ti trapassa è certo che se quelle frequenze sono ancora maggiori sono ancora più alte sono ancora più potenti e ti inseguono per strada è chiaro che a questo punto se è così vorrei capirlo a questo punto diventa ancora più pericoloso da cui bisogna in qualche maniera prendere non le distanze ma delle contromisure ecco che può essere il non installiamoli o seppure dovranno installarli e questo non lo so trovare le misure per far sì che questo non sia eccessivamente dannoso per il nostro organismo non sta a meno sono io uno scienziato però ecco appoggio sostengo tutte le iniziative che portano le persone a sapere a comprendere poi io credo e concludo con questo che le cellule che sono la nostra base della vita hanno bisogno di poche cose per stare sane una di queste è l'ossigeno il motivo per cui bisogna stare fuori il motivo per cui bisogna respirare profondamente il motivo per cui senza fare pubblicità ma sai che uso il tuo self food perché ritengo che avere le cellule ossigenate sia veramente una benedizione e qualsiasi cosa che mi aiuti a stare super ossigenato so che aiuta la mia salute a rinnovarsi di giorno in giorno quindi di solito funziona così ogni volta che nasce qualcosa che è anche dannoso e ci sono delle persone illuminate che fanno di tutto per trovare dei rimedi per contrastare quelle minacce è evoluta così lo yin e lo yang eh sì ma è così e si è evoluta così la nostra la nostra umanità quindi so che non possiamo fermare il progresso il progresso sta andando in una direzione non so se quella direzione è quella migliore questo sì perché per dire io non sono un proscienza a tutti a tutti i costi o meglio non la scienza che noi consideriamo qui in occidente la scienza nel senso che va bene quella ma ce ne sono anche altre altri approcci sono contro la censura se qualcuno dice che la scienza non è democratica ed è vero per certi versi ma noi sì quindi se la tua scienza il tuo approccio va in quella direzione l'integrazione degli approcci scientifici penso che ci possa aiutare e quindi oggi fortunatamente la scienza vede l'elettromagnetismo l'influenza delle onde elettromagnetiche in maniera appunto scientifica e provata un tempo non era così un tempo le energie erano per chi pensava a cose magiche o esoteriche in realtà non è così l'energia è parte della fisica è parte della vita e quindi è anche parte della scienza che vuole ovviamente dare un significato e un nome alle cose che accadono per natura quindi sono pro queste cose perché ci portano conoscenza e ci permettono di progredire con la scienza e dall'altra parte di progredire come esseri umani e non farci uccidere anche dalla scienza perché alle volte il rischio è questo guarda Livio io penso che abbiamo detto delle cose importanti che fanno ragionare e possono essere molto utili per chi ci ascolta partendo dal presupposto che ognuno di noi deve proprio ricercarle queste cose non darle sempre per scontato ma ricercarle capire approfondirle sempre di più diventare consapevoli sai cosa mi spiace per chiudere sai cosa mi spiace Giorgio che molte volte quando si parla di queste cose ci si venga si venga etichettati no? della serie sì ma questo non è non è la vera scienza è una fake è una fake oggi è una fake io inorridisco mi crescono i capelli mi ricadono quando sento che degli esimi scienziati dicano no solo noi abbiamo la scienza quindi se tu sei allineato al nostro pensiero allora anche tu fai parte della scienza se tu non sei allineato a questo pensiero non sei più uno scienziato quindi è come se la tua laurea non funzionasse più gli studi che hai fatto non valgono più niente ti radiamo ti radiamo dagli ti radiamo ti badiamo ti ridicolizziamo è un peccato perché è una ricchezza la diversità nel pensiero la diversità in genere è una ricchezza perché il mondo nasce vario non esiste una sola varietà una specie di un qualche cosa in natura ce ne sono a perdita d'occhio e di pensiero questo ci deve fare pensare quindi invece che integrare le cose ci si divide si fa guerra questo è giusto e questo è sbagliato secondo dei criteri che poi arbitrariamente qualcuno decide peccato perché invece comprendere queste cose ci può aiutare in tutte le direzioni e ci permetterebbe di avanzare con la tecnica con la tecnologia con la scienza e dall'altra parte tutelare l'essere umano ahimè di mezzo come dicevano quelli che ne sapevano follow the money e quando tu vuoi capire come mai tutte le cose non tornano no scusa vai avanti vai avanti che poi passiamo vuoi capire come mai certe cose non tornano perché non si parla di questo perché non si parla di quell'altro follow the money e capisci subito che ci sono degli interessi economici che portano a sviluppare più determinate cose meno delle altre se è vero che le grandi case farmaceutiche comunque le multinazionali sovvenzionano tutti gli studi di ricerca universitari privati e così via ma lo comprendo va da sé che certe cose che non sviluppino quel business non ci sia interesse pensa alle malattie quelle malattie ad esempio genetiche rare che colpiscono poche persone ogni anno pochi bimbi ogni anno e che non hanno cura perché semplicemente nessuno le studia perché non ci sono non ci sono sovvenzioni perché non ci sono sovvenzioni perché nessuno paga gli studiosi ricercatori a trovare delle cure perché perché sono pochi i casi quindi quelle cure non farebbero guadagnare abbastanza da poter giustificare no le ricerche lo comprendo dal punto di vista imprenditoriale sono un imprenditore ma dal punto di vista ad esempio istituzionale non lo comprendo io dovrei fare ma no non lo comprendo che determinati capitali vadano alla ricerca anche di quelle cose secondarie che non hanno uno sviluppo di business ma salvano delle vite o magari in futuro potrebbero salvarne tanti di più perché ci proteggono da altre da altre da altre minacce come ti chiamano guarda Livio no no assolutamente ma basta pensare la fibromialgia i fibromialgici che l'OTTA stanno facendo basta pensare gli elettrosensibili la sensibilità chimica multipla cioè a lei li curano come depressi come stressati antidepressivi perché si ribellano al fatto che gli dà fastidio il campo elettromagnetico o una sostanza chimica capito posso fare posso posso fare una domanda polemica me la consenti sì allora poi passiamo la parola al grande prof se il signor Bill Gates sì è un un filantropo e che investe centinaia di milioni di dollari ogni anno per la salute è la nostra salute sì e non dovrebbe avere grandi interessi economici perché oramai la sua vita da buon ricco se l'è fatta cioè non ha più bisogno di denaro corretto se invece che cercare di vaccinare tutto il mondo un po' di quel denaro lo destinasse per ricercare quelle cose che non devono generare profitto perché non lo genereranno non c'è abbastanza mercato ma salvano delle vite salvano delle vite se sei veramente un filantroco di tutto quel denaro perché non sostieni quegli studi che non possono essere sostenuti da chi deve guadagnarci ecco quella è vera filantropia e non ecco come dico come dico il libro come io dico sempre che anche te bravo bravi tutti e due bravi l'educazione l'educazione il cuore la responsabilità su certe su certe situazioni come quella che stai dicendo te sono sempre più rare questo mondo e probabilmente c'è qualcuno che non ha capito che deve silenzio il microfono e lo riapro non ma quindi probabilmente quello che stai dicendo è vero come mai sta mancando proprio queste ma non solo lui ce ne tanti ne possiamo fare non li capisco proprio basta pensare che se avete visto che hanno messo insieme questa app vai a vedere chi è il padrone di questa app non faccio nomi insomma ce ne sono varie società poi ti dicono l'app è gratuita vabbè però c'è dietro qualcosa che non va che non va